Ed eccoci qua per un'altra puntata di In Cammino. Buonasera, oggi puntata dedicata alle diocesi italiane. Come sta andando il cammino sinodale in una particolare diocesi? Oggi andiamo nell'Arcidiocesi di Trento. Sigla! Ed ecco qua, lo vedete già il nostro primo ospite in studio. Diamo il benvenuto a Don Celestino Rizze. Ben trovato Don Celestino. Buonasera a tutti quanti. Grazie per essere sceso da Trento. Dalla neve fino a Roma. Oggi insomma un bel viaggio per raccontare un bel viaggio che state facendo in diocesi. Esatto, sì. Don Celestino fa parte dell'equipe sinodale, uno dei coordinatori dell'equipe sinodale della diocesi di Trento. E poi apriamo subito la finestra su Trento dove ci sono per noi, lo vedete inquadrati, Monsignor Lauro Tisi. Arcivesco, ben trovato. Ben trovato, eccellenza. Altrettanto. Grazie per essere con noi. Insieme al Vesco c'è Claudia Giordano che anche lei insieme a Don Celestino è referente dell'equipe del cammino sinodale della diocesi. Intanto grazie a tutti per essere qui, per rappresentare una comunità in cammino come quella di Trento. Eccellenza, una diocesi particolare perché ogni valle è una cultura e il fondo valle è la zona dell'Adige. Penso ai paesi più grandi, Trento e Rovereto hanno un'area al trà particolare. Ci può descrivere che chiesa è quella di Trento? Ma è una chiesa di montagna perché è segnata da diverse valli, è molto estesa, quindi ha anche delle differenze notevoli tra le valli, il fondo valle, le due città di Trento e Rovereto. Comunque è una realtà molto bella, lo dico anche da Trentino, proprio perché le nostre comunità, sono comunità che hanno la possibilità di avere pochi presbiteri presenti, sono però comunità che si stanno reinventando attraverso anche dei comitati, delle strutture che direi sinodali, che permettono anche a queste piccole comunità di procedere, di procedere anche se magari hanno un parco che condivide diverse parrocchie. Tutto sommato quello che vedo è un laicato che si muove, si organizza e con mia sorpresa, bella sorpresa, vedo che magari c'è qualche sacerdote in meno ma non finisse l'annuncio del Vangelo, soprattutto ci sono tante persone che lo vivono tutti i giorni e questo mi dà molta speranza e penso che il futuro sarà soprattutto di tanti uomini e donne che nelle piccole comunità, noi abbiamo tante piccole comunità, vivendo il Vangelo regalano un po' di speranza. Le due città e il fondo valle ha qualche dinamica un po' diversa, c'è anche una realtà universitaria molto importante a Trento e a Rovereto, però anche le due città hanno delle loro dinamiche interessanti, in questi anni hanno anche saputo sviluppare iniziative culturali notevoli, forse qualcuno di voi ricorda i festival dell'economia e altri festival, per cui io sono contento della mia terra. C'è un movimento, è una chiesa realmente in cammino che anche data la conformazione geografica e culturale, può essere Don Celestino anche un laboratorio di esempio per tutta la chiesa, perché un po' le differenze che ci sono anche appunto culturali e anche magari questa dispezione, ci diceva Sua Eccellenza, pochi preti, però le comunità esistono, ci proietta un po' in una chiesa del futuro. Che esperienza è stata quella sinodale, Don Celestino, di questi primi due anni e mezzo? Beh, all'inizio siamo partiti con qualche perplessità, anche perché dovevamo comprendere bene quale è lo stile sinodale, poi devo dire che è cresciuto l'entusiasmo, l'entusiasmo credo anzitutto nella nostra equip, dove veramente abbiamo sperimentato anzitutto lì, cosa vuol dire camminare insieme, lo spirito sinodale, vorrei dire anche proprio la spiritualità. Poi, grazie alle iniziative che abbiamo promosso, caratterizzate dalla leggerezza e semplicità, perché non volevamo assolutamente offrire delle proposte che diventassero qualcosa di pesante per la pastorale, già molto impegnata, grazie a questo siamo riusciti a coinvolgere davvero tante persone in piccoli gruppi dove hanno fatto esperienza di che cosa significa davvero l'ascolto fraterno e spirituale. Inoltre, questo poi ha portato anche in questa fase a dire beh, se vogliamo essere semplici bisogna che siamo anche concreti, quindi le proposte in questa fase di discernimento che nascono da questi gruppi sinodali, sparsi davvero su tutta la diocesi, devono essere proposte concrete e fattibili. Claudia Giordano, proposte concrete e fattibili che avete in qualche modo raggruppato in tre filoni, in tre cantieri, cantiere giovani, cantiere donne, cantiere fragilità. Partiamo dai giovani, che risposta avete avuto e come li avete coinvolti rispetto appunto alla prima fase di ascolto? Beh, abbiamo avuto una risposta buona da parte dei giovani e abbiamo visto, abbiamo raccolto appunto, ci sono state nella prima fase, quindi il primo anno di ascolto, si sono anche trovati proprio gruppi di giovani, cioè tra giovani, abbiamo avuto anche il coinvolgimento degli insegnanti di religione e abbiamo avuto un buon riscontro sia da parte dei giovani, ma anche da parte di altri gruppi che hanno parlato, anche di adulti che hanno parlato dei giovani. Quello che è emerso un po' dal cantiere dei giovani è un po' un atteggiamento un po' ambivalente nei confronti della Chiesa, perché da un lato un po' dicono che la Chiesa come istituzione è vista un po' come un qualcosa del passato che non intercetta proprio, diciamo, la loro vita e vorrebbero, insomma, una Chiesa che fosse più vicina a loro. Però la cosa che invece è molto positiva, che riscontrano che è molto positiva per quanto riguarda la loro esperienza di Chiesa, è quella legata alle relazioni, quindi tutte le attività di oratorio, grest, campeggi, quindi tutto quello che li mette proprio in relazione e li fa sperimentare proprio un'amicizia, ecco. Quindi un confronto aperto, eccellenza Menzortisi, che ha portato appunto alla scelta di questi tre temi che poi vedremo nello specifico. Ma perché secondo lei sono emersi questi tre temi dall'ascolto giovani, donne e fragilità? Perché in questo momento sono tre mondi che conoscono in maniera importante delle dinamiche di novità. Il cantiere giovani è pieno di speranza. Io sono stato molto contento di quanto hanno fatto arrivare perché ci stanno chiedendo un cambio di passo, domandano risposte di senso per la loro vita, risposte che devono essere date non tanto in via teorica, ma attraverso delle relazioni, delle comunità, che il Vangelo lo fanno vedere nella concretezza, più che annunciarlo con le formule. La fragilità è una dinamica che sta segnando in maniera importantissima quest'ora della storia e credo che sempre più dobbiamo fare i conti con la fragilità. È l'ora della fragilità, ma anche su questo terreno i giovani hanno saputo veramente esprimere delle istanze molto belle. abbiamo lanciato la possibilità di metterli in gioco con un'iniziativa Passi di Prossimità, dove hanno dato veramente una grande risposta. Io in questi anni ho avuto più consolazione dai giovani che da tutti gli altri. Ho una grande fiducia in quello che portano avanti. Non dobbiamo deluderli attraverso risposte artefatte o astratte, ma mostrando storie umane, relazioni che abbiano il sapore del Vangelo. Il tema della donna è urgentissimo. Ormai le donne stanno domandando di entrare nella Chiesa con responsabilità piena. Tante volte, dobbiamo dirlo, invece questa responsabilità non l'abbiamo voluta condividere e quindi ha un volto troppo maschile la nostra Chiesa. Prima di andare in pubblicità, parlando prima fuori onda con Don Celestino, che una delle belle notizie è proprio il gruppo dell'Equipe Sinodai. 18 persone che anche grazie al Sino danno un senso a questo percorso e fanno vedere in prospettiva una Chiesa diversa. Sì, siamo cresciuti davvero insieme, anche perché abbiamo cercato di rappresentare nell'Equipe persone che provengono dalle nostre otto zone pastorali e fra di loro non tutte si conoscevano. e siamo cresciuti in quello stile sinodale che è anzitutto l'ascolto, ma poi anche il clima spirituale. E vorrei portare una piccola esperienza. C'è stato un anno e mezzo fa un momento in cui ci interrogavamo circa come proseguire, avevamo alcune tensioni fra di noi, nel senso visioni un po' diverse anche su come interpretare, vedere. E a un certo punto abbiamo detto, beh, facciamo silenzio. Ed è stato interessantissimo, perché poi il silenzio ci ha permesso di ripartire cercando davvero di ascoltare l'altro. Questa per me è l'esperienza forse più bella del sinodo, cioè trasmettere che se ci ascoltiamo veramente, allora se ascoltiamo la realtà oppure prendiamo delle decisioni, si prendono in maniera non come dire ho vinto io una parte, ha vinto sull'altra, ma è qualcosa che è nato come una sintonia, ecco, sintonia e sinodo hanno la stessa radice sin, cioè qualcosa che fai insieme e questo silenzio, questo silenzio che abbiamo fatto veramente ci ha riregistrati sullo spirito. Mi siete dati un metodo, diciamo, per semplicità, leggerezza e silenzio per ascoltare meglio, entrare meglio nelle cose, no? Esatto. E ci fermiamo solo per un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo, continueremo ad approfondire anche il cantiere legato alla figura della donna nella chiesa, ma poi anche il cantiere della fragilità con un servizio che abbiamo registrato nella mensa della Caritas di Trento, dove un po' vengono alla luce che cosa significa servire gli altri, diciamo così, per servire se stessi. Pubblicità e poi torniamo. Bentornati, stiamo raccontando il cammino sinodale dall'Arcidiocesi di Trento, lo stiamo facendo con in studio Don Celestino Rizza, ancora ben trovato, e collegati da Trento Monsignor Lauro Tisi e Claudia Giordano. Allora, tornerei proprio da Claudia, perché prima abbiamo parlato del cantiere delle donne, che cosa è emerso dal punto di vista concreto per cambiare un po' il corso della presenza femminile all'interno delle comunità ecclesiali? Donne da sempre attive, però che cosa manca? Dalle sintesi che ci sono arrivate, da quello che abbiamo potuto constatare, c'è, come si diceva anche prima, questa esigenza appunto di arrivare ad una reale uguaglianza e a una reale corresponsabilità all'interno della Chiesa e quindi anche nell'assunzione di ruoli più decisionali. Però tutto questo non in un'ottica di potere, diciamo così, quello che è emerso è un discorso di servizio, cioè di recuperare proprio il potere ma nel senso di servizio, quindi il potere evangelico è in realtà servizio e questo è venuto fuori dall'approfondimento del secondo anno proprio del cantiere delle donne e non si lamentano le donne appunto dei vari servizi che fanno nelle parrocchie perché fanno diversi tipi di servizio. Chiedono un riconoscimento e comunque il servizio lo fanno volentieri proprio perché l'essere cristiani è proprio nel senso di mettersi a servizio. A proposito di servizio sono tanti i volontari che quotidianamente prestano la loro opera anche nella mensa della Caritas di Trento. Noi vi portiamo proprio a conoscere i volontari e anche a capire che cosa significa confrontarsi ogni giorno con le fragilità. Vediamo. Questa mensa è nata circa 30 anni fa nel mondo dei padri francescani Cappuccini e poi dal 3 settembre del 2023 è in mano alla Caritas di Ocesana. Al giorno sono serviti tra i 120 e i 140 cene che sono coinvolti in tutta la mensa. Sono circa 300 volontari. Faccio cucina, sono aiuto cucina, lavavo piatti, quello che c'è da fare senza nessun problema. Io devo accoglierli col sorriso sulle labbra e loro mi salutano. Sono molto gentili. Addirittura mi chiamano zio ultimamente. Non ho capito perché, ma mi chiamano zio. C'è chi chiede dammi questo, dammi quell'altro, avrei bisogno di questo, come faccio a fare quello. Ma poi inizia una certa relazione di dire ok, ma dietro questa tua richiesta cosa c'è? Ci sei tu e inizia una relazione personale. Oltre al piatto di pasta diamo anche un po' di fratellanza, se vogliamo, di amicizia. Uno una sera mi ha preso le mani, mi ha baciato le mani, mi ha baciato sulle guance, grasse di tutto. Quelle lì sono cose che ti ricordi ovviamente. Come gli ossi ci stiamo muovendo e come Caritas in modo particolare sulla fragilità, però fragilità intesa in modo molto molto ampio. Nella fragilità mettiamo gli ultimi, che possono essere richiedenti di protezione internazionale, abbiamo famiglie, pensiamo anche solo alla parte degli anziani. Star vicino ai fragili la prima cosa è accettare che esistano e che tu non sei chiamato a risolvergli il problema, ma sei chiamato a stare accanto a loro. Accogliere la fragilità secondo me è poter aiutare ad alleviare quelli che sono i problemi di ciascuno. Anche se non li aiuti materialmente con qualcosa, il sostegno morale penso che serva molto anche agli utenti che accedono a questa mensa. Una carezza vale molto di più di cento pasti, anche se per loro, logicamente, nelle condizioni in cui si trovano, il pasto vale molto. Monsignor Tisi, in questo servizio emergono un po' quelle parole chiave che abbiamo ascoltato poco fa, che ci raccontava Don Celestino, semplicità, accoglienza, leggerezza. Lasciarsi cambiare dall'incontro, e questo proprio ci fa capire anche la giusta direzione, mi viene da dire. Sì, perché Gesù Cristo non ci ha consegnato teorie, ci ha consegnato un modo di stare al mondo, un modo di abitare la vita, e il modo di abitare la vita è quello del farsi prossimo, della tenerezza, è quello del dare campo al perdono, è quello dell'investire in gratuità, è quello anche del saper accogliere la propria fragilità con un po' di umorismo, è quella di non scandalizzarsi mai del male che trovi attorno a te, è quella in una parola dell'esistere per far spazio e non per farsi spazio. E quello che cerchiamo di fare, e la mensa ne è una concretizzazione, è proprio questo, mandare in onda il modo di vivere di Dio che noi abbiamo toccato e visto in Gesù Cristo. E quindi non è che c'è un annuncio e poi c'è un altro, c'è un annuncio che si fa attraverso la concretezza e i fatti. A me piace dire a volte che si crede col corpo, perché non a caso la verifica del Vangelo è avevo fame e mi è dato da mangiare, avevo sentito e mi è dato da bere. Noi accreditiamo il Cristo non attraverso le parole, ma attraverso la concretezza del modo in cui viviamo. Un modo di vivere tra l'altro che non è tanto un dettato etico, ma è proprio la buona notizia che si sta bene facendo spazio e si muore nel momento in cui narcisisticamente ci si fa spazio. Vite che sanno di Vangelo, Don Celestino è anche il titolo di una serie di video che state anche pubblicando sul sito della Diocesi, dove comunicate le storie che emergono anche dal cammino sinodale. Ma è anche questo un modo per essere vicino alle persone e far capire che cosa emerge, no? Certamente, perché davvero o il Vangelo è vita, oppure non è più Vangelo, no? Il dramma che accennava Paolo VI ancora tanti anni fa, il dramma della separazione tra la fede e la vita. Non c'è una separazione. O la vita è fede, oppure la fede non è fede. E quindi queste testimonianze, che sono vive, concrete, ci permettono proprio di far vedere che il Vangelo è praticabile. Abbiamo ancora un minuto, volevi chiudere con Claudia Giordano. Come proseguirà adesso il cammino sinodale a Trento? Prossimi appuntamenti, prossimi traguardi, speranze? Adesso siamo ovviamente nella fase sapienziale, quindi stiamo raccogliendo tutto quello che sta emergendo dai gruppi che si stanno incontrando in vista proprio anche di, oltre all'ascolto, questa volta anche di un discernimento tramite l'ascolto. E quindi alla luce della parola e alla luce appunto di quello che lo spirito dice attraverso ogni fratello e ogni sorella. E poi vedremo, noi ci aspettiamo appunto delle proposte, delle proposte concrete sui tre cantieri che appunto, come dicevamo prima, devono essere percorribili e fattibili e quindi proseguiremo sia a livello diocesano con il nostro Vescovo e ovviamente tutto quello che emergerà lo manderemo anche a livello nazionale poi per dare il nostro contributo come diocesi al cammino a livello nazionale. E allora buon cammino a tutti voi, buon cammino all'arcidiocesi di Trento questa sera rappresentata da Claudia Giordano, Mons. Lauro Tisi, Don Celestino Riz e alla prossima. Alla prossima, grazie. Grazie veramente per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. Noi ci ritroviamo, se volete saremo qui anche domani sera per un'altra puntata in cammino puntuali 19.30, 19.32 per appunto andare a scoprire altre storie in questo lungo e bello entusiasmante. Cammino sinodale, buona serata. Al prossima, grazie. Grazie a tutti.